Allora, dicevamo che il secondo problema, cioè quello di recuperare il residuo, è quello più semplice da affrontare. Allora, cominciamo a vedere. Allora, supponiamo che F abbia un po' semplice in Z0. Questo che vuol dire? Allora, il residuo di F nel punto Z0, lo posso calcolare in due modi, come il limite per 0 che tende a 0 a 0, di 0 a meno 0 a 0, F, oppure posso calcolare F di Z, oppure posso calcolarlo come... Ok. 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 Supponiamo invece che abbia, questo è il primo caso, il secondo caso, F ha un polo di ordine N in 0 a 0. Allora, io cosa posso fare? Posso fare il residuo di F in Z0, lo posso scrivere come... Allora, qua ho preso F di Z, la moltipico per Z meno 0 a 0 alla N. Allora, fino a qua, cosa ottengo? Una funzione che non ha più poli, quindi diventa una funzione o la moffa. Ma se ho la moffa, la posso derivare... o la moffa una volta prolungata in Z a 0. Ma se ho la moffa, questa la posso derivare quante volte mi pare. Allora, io dico che questa qua la vado a derivare N meno 1 volte in Z alla N meno 1 e poi il tutto lo devo dividere per... ehm... lo devo dividere per N meno 1 volte in Z. Allora, adesso se ho sbagliato un po' lo correggiamo nella situazione. Allora, cominciamo a fare il primo caso, il primo caso è banale. Nel primo caso, la mina F di Z si scrive come C meno 1 su 0 a meno 0 a 0 più G di Z. Allora, questa è una funzione o la moffa. Questa è la parte singolare e questa è la parte regolare. Quando la vado a moltiplicare per Z a meno 0 a 0, ottengo F di Z per Z a meno 0 a 0 uguale C meno 1 più G di Z per 0 a meno 0 a 0. Adesso fate N di Z a 0 a 0 e che vi rimane? C meno 1. E chi è C meno 1? Allora, andiamo a fare il secondo caso. Nel secondo caso, F di Z la posso scrivere come Somma per H che va da meno N a infinito, devo usare un'altra letta perché N stava già impegnata, di C con H per Z da meno 0 a 0 alla H. Adesso moltiplico per Z da meno 0 a 0 a 0. Adesso moltiplico per Z da meno 0 a 0. Adesso moltiplico per Z da meno 0 a 0 alla H più N. H più N adesso lo chiamiamo M. Allora qua posso scrivere la somma per M che va da 0 a infinito di C con M meno N per 0 a meno 0 a 0 alla M. Allora, qual è il problema? Il problema è che io devo tirare fuori qua da tutta Sasuna. Adesso questa è diventata una funzione olomorfa perché come vedete le potenze M sono tutte non negative. Però devo tirare fuori, però devo tirare fuori sempre il coefficiente con l'indice meno 1 perché gli indici qua non li ho cambiati, li ho cambiati il nome alla M ma questo parte sempre con C meno N. Quando M meno N è uguale a meno 1, che vuol dire che M è uguale a N meno 1? Quindi il coefficiente giusto si trova davanti a 0 a meno 0 a 0 alla M meno 1. Allora io quante volte devo, questa qua è una funzione a serie di euro, quante volte la devo derivare? Allora, se la dirigo a M meno 1 volte, cioè N meno 1 volte, quel coefficiente è là, la virgola di Z meno 0 a 0 alla N meno 1 fa N meno 1 fattoriale, e lo devo raggiungere. Il coefficiente davanti ci rimane e il grado scende di N meno 1. Allora, facendo da N meno 1, scendendo di N meno 1 si troverà a grado 0, che vuol dire che C meno 1 sarà diventata la O stante. Tutti gli altri, i termini di grado inferiore sono spariti perché gli derivati sono ammazzati, i termini di grado superiore mi spariscono quando questa derivata ovviamente la devo calcolare in Z a 0. Questo fu l'indicato di B, la derivata va calcolata in Z a 0. La derivata poi la devo calcolare in Z a 0. E a quel punto, e a quel punto, ottengo C meno 1, che è il residuo, e quindi otteniamo quest'altro punto. Va bene? Questo è un secondo modo di tirar fuori così. E poi non è che ce ne stanno proprio tanti, eh? Più mai questi sono. Adesso andiamo a vedere nel nostro caso, nell'esempio di prima. io volevo fare il residuo Allora, se voglio fare il residuo di 1 fratto 1 più 0 alla quattro nel punto 1 più i su radica 2 che devo fare? Devo fare il limite per Z che tende a 1 più i su radica 2 di Z meno 1 più i su radica 2 eh fratto 1 più z alla quattro Allora questo come lo puoi scrivere? Qua puoi scrivere Z meno 1 più i su radica 2 fratto Z meno 1 più i su radica 2 per Z più 1 eh meno 1 meno i su radica 2 per Allora, questa è la radice e questa è l'altra radice coniugata quindi quando vado a fare il prodotto di queste eh no, questo qua sì, perché questa è una radice e una radice coniugata e là vabbè no, mi conviene mi conviene no, perché in ogni caso facciamo una radice alla radice opposta quindi più 1 più i su radica 2 e poi facciamo Z meno 1 meno i su radica 2 Allora, questa qua è la radice opposta questa cosa mi danno? Queste sono le radici di le radici quadrate di quindi questo qua è Z quadro più i Z quadro meno i che è A più b per la meno b A quadro meno b quadro questo qua e l'altro sarà Z quadro più i ok? Allora, questo e questo limite l'ho tolto perché? Perché questo e questo si semplifica il resto ah no, il limite per Z che tende a 1 più i su radica 2 quindi cosa adesso devo fare? Devo andare a sostituire Devo andare a sostituire 1 più i su radica 2 al quadrato fa i quindi questo mi viene uguale 1 fratto 1 più i per radica 2 per 2 allora questo mezzo l'ho tolto e l'ho semplificato perché è uguale al numeratore denominato quando Z tende a questo se io sostituisco il valore del limite questo limite non è 0 quindi questo qua si può calcolare mi fa questo se stesso quindi raddoppia quindi viene 1 più i per radica 2 e l'altro invece viene 1 più su radica 2 al quadrato che fa i i più i fa 2 ok? quindi qua ho dovuto fare la fattorizzazione in questo caso ho dovuto fare la fattorizzazione del denominatore ma se ci pare caso non ho dovuto fare i fatti semplici e quindi questo è un residuo questo è un residuo 1 su 2i questo qua lo posso anche scrivere come 1 meno i su 2 radica 2 per 1 su 2i ok? perché? 1 fratto 1 più i razionalizzando e 1 meno i mezzi questo lo lascio perché lo lascio? perché quando vado a applicare il terreno dei residui c'è un 2i da semplificare e non te la a toglierlo posso anche toglierlo che 1 su i può moltiplicare per meno i lo posso fare un numero 2 poi lo devo dimontificare per i analogamente il residuo di 1 fratto 1 più 0 alla quarta nel punto 1 meno 1 più i su radica 2 a chi è uguale è uguale al limite per z che tende a meno 1 più i su radica 2 di che cosa? allora qua potrò scrivere z meno meno 1 più i su radica 2 qua ci metto z meno meno 1 più i su radica 2 z più e non 1 più i su radica 2 prendo sempre una radice con l'opposta in maniera tale che quando vado a fare il quadrato quando vado a fare il prodotto qua mi viene z quadro meno meno i quindi z quadro più i e l'altro è z quadro meno i e se vi ricordate z alla quarta più 1 lo potevo scrivere come z quadro più i per z quadro meno i allora questo qua e questo si semplifica quindi qua ho 1 fratto meno 1 più i per radica 2 per meno 2 perché il quadrato della radice del punto considerato è meno i meno i meno i fa meno i allora qua intanto cambio segno faccio diventare più i qua diventa 1 meno i e qua diventa un'altra volta 1 più i più i su 2 radica 2 per 1 su 2 allora vedete questi sono i due restituti stavolta invece 10 minuti ci abbiamo messi 5 quando vado a fare la la somma dei restituti rimane 1 su 2 i e la parte e la parte immaginaria è la parte immaginaria di i su 2 radica 2 meno i su 2 radica 2 andando a sommare se ne va quindi quando vado a scrivere l'integrale tra meno infinito più infinito di 1 tra 1 su x alla quarta e x questo qua fa 2 pi greco i per 1 su 2 i e qua viene 1 su radica 2 1 su radica 2 2 i e 2 i se ne va quindi qua viene pi greco e allo stesso risultato ok quindi come vedete questo è un metodo che accorcia la valutazione per fare la valutazione del residuo in questo caso però questo qua funziona solo se ci sono polisi anche l'altro funziona bene però quanto è che funziona bene sia per fare questo metodo che per fare sia per applicare questo metodo per il calcolo dei residui nel caso di poli 16 sia per applicare il secondo nel caso di poli doppio di ordine superiore la cosa che bisogna conoscere o ricavare in ogni caso è se abbiamo una funzione razionale che quindi ha solo poli quindi polinomio fratto polinomio o anche una funzione onomofa fratto una funzione razionale quello che mi interessa sapere quello che mi interessa sapere è la fattorizzazione del denominatore perché in questo caso vedete anche qua ho dovuto scrivere la fattorizzazione del denominatore questa fattorizzazione del denominatore si può fare in vari modi perché o scrivi tutte e quattro le radici quello è un polinomio monico z alla 4 in coefficiente c'è 1 e quindi può scrivere z meno z1 per z meno z2 per z meno z3 per z meno z4 però non è conveniente se ci fate caso sopra io ho usato due radici le ho esplicitate perché una un pezzo con z meno una radica la dovevo semplificare e le altre due radici le ho lasciate insieme che mi facevano da una parte z4 più i e sotto invece mi facevano z4 meno i e però avevo preventivamente mi ero rifatto alla fattorizzazione di z alla 4 più 1 come z4 più i per z4 meno i z alla 4 più 1 si può fattorizzare anche come z4 più radica 2 z più 1 per z4 meno radica 2 z più 1 però cosa significa? Significa accoppiare le quattro radici in maniera diversa invece di accoppiare di prendere la coppia radice e radice opposta prendevo la coppia radice e radice politica quello è un po' meno a coefficienti reali quindi si poteva sempre fare questo tipo di fattorizzazione che ha coefficienti reali questo l'avevo imparato qui in analisi quindi come vedete diciamo per calcolare il residuo se avete una funzione razionale fratta quello che vi interessa è saper fattorizzare il denominatore se il denominatore vi viene dato già fattorizzato sta posto è tutto facile ok vediamo degli esempi qua c'erano due o tre esercizi facili si calcoli residui f di z uguale a z della funzione f di z uguale due fratto z per z meno i ora questa funzione secondo voi cosa presenta? perciò ho fatto l'esercizio nell'altro modo nella prima la funzione cosa c'è? dove è l'omofo in tutto c tranne 0 e 2 quindi c'ha due singolarità isolate in queste due singolarità isolate che cosa c'ha? due o sono poli o sono singolarità essenziali orientativamente vi sembrano poli orientativamente vi sembrano poli di ordine maggiore di 1 o sono poli semplici sono semplici cioè gli zeri del denominatore sono i poli della funzione ogni zero del denominatore di ordine 1 è un polo semplice ogni zero del denominatore di ordine 2 3 4 5 6 sarà un polo doppio tipo 4 quindi quello sesto è chiaro? semplice quindi se io voglio fare essendo un polo semplice se voglio fare il residuo di f in zero cosa devo fare? devo fare il limite per z che tende a zero di z per la funzione zero meno zero z per z 2 z per z meno i z per z si significa quando z vale zero questo vale meno i 2 fratto meno i quanto fa? chiaro? quindi z che tende a i è il residuo in i se tu vuoi fare il residuo di f in i residuo di f nel punto i è un altrettanto polo semplice quindi tu devi fare il limite per z che tende a i ma non di z quindi z meno i per 2 z fratto z meno i scusa 2 la z è stata bisogna meno i adesso z meno i e z meno i se ne va adesso c'è il 2 su i e quindi fa meno i ma questo è normale che questo residuo che fosse l'opposto di quell'altro lo potevi capire pure in un altro modo questa funzione ha l'infinito quando z va infinito a quanto tende? a zero ma non solo tende a zero ma ci tende? se faccio z f z per z che tende a infinito allora z z semplificano 2 su z meno i 2 su z meno i per z che tende a infinito tende a zero perché il modulo di z va a infinito e questa va a zero allora che significa? significa che quando andremo a fare l'integrale se io faccio l'integrale su una circonferenza molto grande in questa funzione l'integrale deve tende a zero questo lo vedremo sarà il lemma del grande circo che non è altro che sistematizzare quello che abbiamo detto fino a ora quando andiamo a fare quegli integrali c'è un'osservazione di altri adesso che succede se se su un cerchio grande l'integrale tende a zero che quell'integrale deve essere uguale alla somma dei valori dei residui identici ma la somma dei residui dentro deve fare zero quindi se un residuo fa due l'altro residuo deve fare opposto quindi se uno è due l'altro deve essere meno due in questo caso non sempre perché praticamente quando non fa zero è come se ci fosse un residuo all'infinito la somma di tutti i residui deve essere sempre zero però se non c'è il residuo all'infinito in questo caso il residuo all'infinito non c'è la somma dei residui al finito deve fare zero e quindi se uno fa due in l'altro deve fare meno due però per non sapere né leggere né scrivere l'abbiamo calcolato che due sono due due poli semplici e quindi è evidente che uno faccia in e che l'altro faccia meno due è chiaro? via qui? no ok andiamo a fare un altro esercizio grazie si calcoli il residuo in ogni singolarità isolata della funzione f di z uguale meno 4 fra z più i per z meno i al più dove stanno le singolarità? meno i che cosa ci sta? bo come dire? sempre e poi? 10 è un bo di ordine 3 ora cominciamo a fare calcolare la cosa in meno i allora devo fare il residuo di f nel punto meno i a quanto deve essere uguale? deve essere uguale al limite per z che tende al meno i di z più i per meno 4 fra z più i per z meno i al più allora guardate questa è la parte che tende a zero quella che dà la forma indeterminata diciamo quindi questo limite è uguale è uguale a meno 4 fratto meno 2i a 2 quindi qua viene meno 4 fratto meno 8 per meno i quindi viene meno che è meno per meno per meno fa meno 1 su 2i e quindi fa 1 i mezzi il moltipico per i sopra e sotto sopra viene i sotto viene meno 1 che è sempre io questo è il residuo di f nel punto meno i ora secondo voi quanto deve fare il residuo di f il residuo di f deve fare meno i fratto 2 perché? vediamo se non lo dovete giustificare però allora questa qua quando va quando z va infinito non solo va a zero ma chi è il leading term z alla quarta ci va a zero di ordine 4 cioè ci va a zero più di ordine u che di ordine u quindi questo vuol dire che l'integrale su una circonferenza grande tenderà a zero lo vuol dire che tutti i residui affiniti insomma devono essere uguali a questo integrale ma questo integrale in realtà appena contiene tutte e due i e meno i fa sempre zero e quindi i due residui devono essere opposti però stavolta è interessante perché l'altro è un buono di ordine 3 quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare un mezzo per la derivata seconda di che cosa di zero meno i al punto per la funzione cioè devo fare meno 4 fratto zero più i cioè devo derivare questa funzione due volte allora come si fa a derivare questa funzione due volte questo è un mezzo deriviamo la prima volta la derivata di 1 fratto zero più i è meno 1 fratto zero più al quadrato quindi qua viene 4 fratto zero più i al quadrato naturalmente la derivata quella la devo calcolare nel punto i quindi questo qua è il mezzo la derivata di zero più al quadrato è meno 2 fratto zero più i al cubo valutato sempre in allora qua mi viene meno 1 fratto due i allora quindi qua mi viene meno 1 fratto il 4 non l'ho sfruttato il 4 per meno 1 faceva meno 8 quindi qua era meno 4 quindi meno 4 fratto meno 8 i allora meno e meno diventa più 1 su 2 i è meno i vedete? che i residui sono effettivamente e questo l'abbiamo provato completamente con un'altra forma quindi può dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso è consistente qual è il problema in quello che abbiamo fatto? adesso c'è un problema di italiano perché dalle nostre parti diciamo scordato ma non esiste perché non esiste in italiano e questa si dice scordato dimenticato sono due o tre errori insieme dimenticato che si scorda la chitarra poi si dice casomai la chitarra si scorda ma non si scorda questo è un altro problema lo faccio errore però volendo mi sopporre e quindi vedete che i due residui effettivamente fanno uno fa i mezzi e l'altro fa meno i mezzi e questi sono esercizi abbastanza semplici andiamo a fare un altro esercizio stavolta andiamo a calcolare dobbiamo andare a calcolare il residuo in ogni singolarità isolata della funzione f di z uguale seno di y z fratto z quadro per 0 meno 3 mezzi a quadrato allora quali sono i residui eh quali sono le singolarità in azione 0 allora 0 polo di ordine 2 e poi 2 e 2 che lo ha detto che c'è il quadrato il fatto che al numeratore ci sia una funzione intera seno di pi che che o z ci dà passire no? non ci dà nessun passire ok ok adesso per calcolare il residuo di f in 0 che devo fare? devo fare la derivata di 0 di pi greco z per z a meno 2 mezzi al quadrato e poi la devo rafforare e se vi ricordate devo moltiplicare z quadro ma siccome poi il quadro di ordine qui z quadro se ne va poi devo fare la derivata di ordine n meno 1 quindi la derivata prima e devo dividere per n meno 1 fattoriale che è 1 fattoriale adesso come si fa la derivata come si fa z da meno 3 mezzi alla quarta per la derivata del numeratore quindi coseno di pi greco z e pi greco per il denominatore non del grado meno la derivata del denominatore quindi due volte 0 a meno 2 mezzi però devo fare la semplice per seno di pi greco z tutto quanto deve essere calcolato in 0 uguale a 0 allora che significa seno di 0 fa 0 le funzioni complesse stanno voleranno quindi se è in 0 quindi questo pezzo non c'è qua invece mi viene pi greco coseno di 0 fa 1 quindi qua mi viene pi greco poi questo al quadrato si invidia questa alla quarta quindi mi rimane 0 meno 3 mezzi fa meno 3 mezzi al quadrato sotto quindi qua mi viene 9 quadri quindi questo fa 4 pi greco 9 e infatti fa 4 pi greco adesso andiamo a calcolare il residuo di F 21 3 mezzi cosa dobbiamo fare stavolta? stavolta dobbiamo fare la derivata rispetto a z della funzione seno di pi greco z tra z però la dobbiamo calcolare 3 mezzi perché se a calcolare il residuo non è punto 3 mezzi ok allora qua che devo fare devo fare z alla quarta come prima pi greco coseno di pi greco z per z a quadro meno 2 z per seno di pi greco z ok e questo lo devo valutare in 3 mezzi quindi sotto ho 3 mezzi alla quarta diciamo 81 sedicesimi e sopra quanto mi viene coseno di 3 pi greco mezzi fa 0 quindi questo pezzo qua non c'è invece seno di 3 pi greco mezzi fa meno 1 meno 1 per meno 1 fa 1 e qua mi viene 2 per 3 mezzi quindi qua mi viene 16 a no no guardi i greco i greco sta qua questo faceva 0 16 fratto 26 ok che significa ed è giusto 16 27 vediamo un po' se sapete dirmi che significa 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 che il residuo questa funzione all'infinito non va a 0 ma d'altro canto attenzione perché uno dice sì ma il denominatore va come z alla quarta è vero ma ricordati che il numeratore sull'asse reale è limitato ma sull'asse immaginario esponenziale quindi col fischio che va a 0 la funzione è seno sull'asse immaginario in modulo è un esponenziale è chiaro quindi col fischio che va a 0 quindi sicuramente non possiamo a questa funzione qui applicare nessun lemma di v o piccolo centri o grande città ok e quindi vedete che funziona ora facciamo una piccola pausa e dopodiché facciamo un po' di integrati un po' più facciamo almeno il lemma del piccolo e grande città poi la settimana prossima facciamo quello di Jordan e dopodiché facciamo un po' di altre applicazioni del nostro terenale di sicurio di sicurio grazie